A grande richiesta guarderò per la prima volta il trailer di Cenerentola. Grazie per questa grande richiesta. Farò questa cosa gioiosissima. Un orologio che segna la mezzanotte. Una starpa di cristallo. Wow. Finirà. Ho già espoirato il finale, santo Dio! No! 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 Che stupido! Che due cessi che la prendono in giro e Kate Blanket che è un gran myth. Qui è super myth. Gran topi. Gran topame. Lucellini blu. Cosa parli? Che stai a pulire? Tutto il giorno. Comparti una vaporella, santo Dio! Ce n'è! Sola, sono con voi! Oh, ciao! Spero di rivedere. È di plastica! Cos'è la camicia azzurra? La casacca verde? L'occhio azzurro? Santo di Dio! Ma dov'è stare entri? Si è rotta! Sta cadendo a pezzi! Dagli una slap! Dagli una slap! Dagli una slap a questa merda! Santo Dio! Non ci si può far prendere anche da queste cose! Dai! Che piangi! Chi siete? Chi è? È la donna cavolo! Cos'è? La donna cavolfiore, santo Dio! Ma cos'è quella roba lì? Dai! Ma non è plastica, eh? Chi è? Allì! Così va meglio! Beh! Sobria! Sobria! È bellissimo! Oh, sì! Cos'è? Tutto sto vanto! Tutto sto tirassia! Dai! Ma il grande classico Disney! Cos'è? Topolino in bianco e nero che guidano la barca! Santo Dio! Quello è un grande classico! Cos'è quella roba lì? Dai! Tutto oro! Tutto oro! Tutto sto sfatto! È arrivato lui! Vero! Ale! Accendetegli le lampadine dentro gli occhi! Cos'è quella azzurro lì? Dai! A marzo! Siamo d'aprile sia! Arriva lei incazzata nera e gli frega anche la scarpetta di cristallo magari, vero? Dai! Un po'! Senza tempo cosa? Che durerà due ore, no? Senza tempo durava l'infinito! No! Dove c'è gentilezza, c'è bontà! E dove c'è bontà... C'è Knorr! Ma che cos'è la pubblicità di un dado per la minestra? Santo Dio! Ce ne rento! Ma dove è Giovanni Rana? Mi ha chiamato anche Giovanni Rana! Santo di Dio! Ale! Chi è il regista? Craco? Merda questi! Dai! Un po' di serietà, un po' di slap di poconi! Un po' di cultura! Santo Dio! C'è ancora il cinema? Eh! Grazie.